buongiorno 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 tu sei andato a scuola qualcosa? si sono stato una massa se ne è caduto il mare la foto e sotto non c'è un cartello con tante cose scritte lì che c'è scritta? hanno aperto una piscina nuova dove l'hanno aperta sta piscina? ma non è un lago questo qui quella è fogna no è la fogna che esce fuori l'hai capito che cos'è? si è che cos'è? ma invece che nuova nuova? nuova nuova è da 20 giorni fa che è messa lì che ne so ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 7 e 35 su radio blinco blanco e telemissina tra il serio e il faceto grazie